TIRAMISU RAFAELLO Ciao ragazzi, oggi faremo un altro consiglio volevo iniziare con un altro tipo di tiramisù o tiramisù Raffaello gente gente prima di cominciare se iscrivete al canale dà quella forza alla curtida e mi siga a me Instagram per non perdere la curiosità di nessun video per questo momento, se prossima vamos a mostrare i ingredienti per tutto il mondo prima, GEMMA D'OVO lembrando che è molto pericoloso come uomo cru compra uno fresco e controllato tenete attenzato azucar mascarpone cremi di lecce fresco cioccolato bianco lecce di cocco bolassa champagne il cocco radado allora c'è inci il primo passo del nostro cremisù acqua e sapermento una tigella e mettere a bagnomaria un nostro cioccolato ah si un cioccolato comincia a deleter adesso il cioccolato sta ben deretato lo vuoi accedere e lo vuoi aspettare che esprimere ora secondo passo montare a GEMMA D'OVO con azucar un po' con azucar un po' con azucar un po' con azucar un po' con azucar il cioccolato è ben incorporato il cioccolato bianco il cioccolato e ora andiamo con un cremi di reci fresco e ora e ora che la massa sta ben montata montare il nostro cremi su mettere un po' con creme ora invece che il caffè usiamo lecce di cocco mettere qui così e un po' con due un po' di cocco alato così ora continuiamo in questa sequenza creme biscotto cocco alato creme biscotto cocco alato 10 su 10 10 10 2 12 13 14 14 15 14 15 15 15 Poi mettere un po' di cocco in cima per finalizzare e mettere nella geladeira franzideira, Roberta? La geladeira. E mettere nella geladeira per 2 ore per incopare. E dopo 2 ore nella geladeira, io aspettino questa delicina. Mmmmm, nozzia! Guarda qui com'è. No, 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 no! Gensi, potete sentire un sapore di soccolato blanco, potete sentire un cocco. È molto differente dal tradizionale, ma è molto buono a piedi. Lembrando, Gensi, che te un video non ti avrai vissuto tradizionale nel mio canale. No, becca! Un beccio, al tuo prossimo video!